Ciao Don Berto, quali sono le principali differenze tra la distinta materiale e di taglio? Ecco, questa è una di quelle domande che mi viene fatta spesso e in questo video ti mostro i 5 elementi che la caratterizzano. Voglio rispondere subito a quelle 4-5 domande che mi vengono poste spesso sulla differenza tra la distinta materiale o di taglio. Quindi iniziamo, quando usarla? Beh, la distinta materiale è quando vogliamo raccogliere in forma tabellare le proprietà delle componenti. Vedete, componenti l'ho messo in grassetto, quindi proprietà materiale, peso, la quantità dei componenti all'interno dell'assieme, con la possibilità di rappresentare fedelmente anche la struttura dell'assieme, quindi avere un 1-1, ok? La struttura dell'assieme la riportiamo esattamente all'interno della distinta. La distinta di taglio, quando si devono raccogliere sempre in forma tabellare le proprietà dei corpi. Quindi questa è la differenza sostanziale. La distinta materiale lavora sui componenti, la distinta di taglio sui corpi. Quali input per l'attivazione di uno o l'altra? Beh, per la distinta materiale potete avere sia il file di parte che il file d'assieme. Ebbene sì, e poi vedremo perché nel file di parte posso attivare la distinta materiale. Nella distinta di taglio, o meglio per la distinta di taglio, soltanto il file di parte. Si possono aggiungere proprietà personalizzate? Sì, su entrambe. E poi vedremo come. Si può compilare in ambienti di disegno? Questa è un'altra domanda importante a cui dobbiamo sapere rispondere. Allora, la distinta materiale sì, perché tutto ciò che riportiamo e andiamo ad inserire in ambiente di disegno, nella distinta materiale, si ripercuote all'interno dei vari file di parte o di sotto assieme. È come se andassimo a popolare in automatico, quindi in maniera associativa, anche i file collegati. La stessa cosa non si può dire della distinta di taglio. Perché la distinta di taglio, a meno che non andiamo noi ad aggiungere delle righe personalizzate, non possiamo modificare il valore presente nella cella. Quindi questo che cosa significa? Che per la distinta materiali possiamo permetterci di lavorarla direttamente in ambiente di disegno, come si fa molto spesso. La distinta di taglio invece va lavorata nell'ambiente di parte. Poi quando si arriva nell'ambiente di disegno, come dire, ormai il gioco è fatto, va soltanto richiamata e posizionata. Possono coesistere nello stesso disegno? Sì, potete avere nello stesso disegno la distinta materiali e la distinta di taglio, senza problemi. Altra cosa che ci tengo a puntualizzare, mi raccomando, non fate confusione tra il disegno e i fogli di disegno. Il disegno è il file. All'interno del file di disegno potete avere n foglie. Ora, volendo approfondire ulteriormente, posso dire anche che all'interno dello stesso foglio del file di disegno possono coesistere la distinta materiali e la distinta di taglio.